Musica Curazione ufficiale definitiva del centro sportivo MAU di Villa Carcina, un centro dedicato al rugby in modo particolare, dedicato alla società I Centurioni che da anni lavorano su questo settore, addirittura dal 1964. È l'occasione dunque per parlare di questa società con il presidente, anzi il presidente più longevo del rugby italiano, vale a dire Ottorino Bugatti. Finalmente abbiamo questo campo, Torino, io conosco i vostri peregrinari lungo la provincia, da Lumezzane a Brescia eccetera eccetera e finalmente ci siamo. Sicuramente oggi è una grandissima soddisfazione, come dicevi tu prima è stato faticoso, l'abbiamo sognato più che pensato per tanti anni, oggi si è realizzato il sogno. In una posizione che ci fa due emozioni, una quella di essere in mezzo alla Valle Trompia per cui di favorire tutti i ragazzi della Valle Trompia e l'altra un po' amarognola di dover lasciare il mio paese di origine. Però questo non è un rimpianto, quello che invece mi dà grandi soddisfazioni è di avere con me un gruppo coeso, un gruppo che ha voglia di lavorare, è un gruppo che mi ha consentito e ci ha consentito di realizzare quest'opera. Come ho detto prima, io ho i miei anni e sicuramente toccherà a loro poi portare avanti l'onere di quello che ho passato insieme a loro e quello che ho avuto come insegnante e fondatore, il professor Bruno Menta, che non potrò mai dimenticarlo perché la sua fondazione non è stato solo un momento ma è stato un rapporto verso i ragazzi che era quasi da padre e figlio, ci amava veramente come se fossero i suoi figli. Vi avete dedicato proprio un busto all'ingresso della struttura? Abbiamo dedicato questo busto perché non potevamo fare diversamente, nel senso non era un obbligo ma era un sentimento che ci accomunava a tutti. Un piccolo particolare, quando lo scultore aveva realizzato il bozzetto siamo andati con un gruppo numeroso a visionarlo per dare il nostro parere, la nostra critica che non è servita perché già il bozzetto era molto molto bello, però visto che qualcuno gli è scesa qualche lacrima. Tanta commozione anche oggi naturalmente per l'inaugurazione. Ho scoperto in questi giorni una società strutturata e al passo coi tempi, pronta per tante avventure future. Sicuramente in merito della costanza di tanti esercatori che poi sono diventati dirigenti a vario titolo, qualcuno anche allenatore. È una conseguenza di persone di buona volontà. Un'ultima cosa che tra l'altro è molto importante è il fatto che i ragazzi che vengono a giocare poi hanno un posto di lavoro assicurato. È così? Anche le ragazze? Sì, è un nostro, da qualche anno è una nostra, non so, una nostra medaglia, diciamo così, dai, non mi viene la parola giusta. Però abbiamo capito con gli anni che lo sport, gli sport minori in generale non possono essere motivi di vita, non è, deve essere solo una fase della vita e pertanto tutte le associazioni sportive dilettantisti che devono preoccuparsi della scolorizzazione dei propri ragazzi e successivamente dell'entrata in lavoro, nel lavoro. Fortunatamente Brescia è una zona dove il lavoro non manca. Fortunatamente anche dopo questo periodo maledetto del Covid il lavoro sta riprendendo discretamente per cui è abbastanza facile collocarli, quelli che hanno già l'età per il lavoro. Il sindaco di Villa Cacina, Moris Cadei, presentiamo questa bellissima struttura, questo centro davvero stupendo. Sì, devo dire che quello di oggi è un momento per noi, come ho detto, memorabile perché davvero ci permette, grazie a questa partnership tra pubblico e privato, di poter portare questo centro veramente alla ribalta dello sport. Oggi è una giornata di festa perché si festeggia il rugby, si festeggia ovviamente l'avvio del campionato con la squadra ma soprattutto si inaugura una meravigliosa struttura in mezzo al verde che permetterà, come è stato detto e ribadito più volte queste mattine ai nostri ragazzi, di crescere soprattutto in amicizia e con il rispetto delle regole che questo sport trasmette a tutti quelli che si avvicinano. Per la comunità di Villa Cacina questo centro cosa rappresenta in modo particolare? Questo centro è un posto un po' nevralgico della nostra comunità perché si pone peraltro in un punto che è proprio centrale rispetto alla valle. Quindi il fatto anche di aver investito da parte dell'amministrazione con questa scelta sulle strutture sportive è proprio il segnale importante che vogliamo dare rispetto a un'aggregazione che deve essere non solo per Villa Cacina ma per l'intera comunità, per l'intera Valtrompia. E quindi come ha ben detto anche il Presidente Ottorino Bugatti in occasione del Consiglio Comunale che ha conferito lui la cittadinanza onoraria l'idea del rugby, della società è quella di dialogare con tutte le realtà del territorio ma soprattutto della Valtrompia. E quindi questo centro non sarà solo un centro di Villa Cacina ma sarà un centro dell'intera Valtrompia. Luca Razza, General Manager dei Centurioni Rugby, una società che sta facendo passi da gigante, una società molto ben strutturata, abbiamo potuto avere modo di vedere, una società che vuole davvero salire nella gerarchia del rugby nazionale. Partiamo pian piano insomma, sì, il nostro obiettivo principale è quello di crescere col settore giovanile, ad oggi siamo 320 tesserati, tanti bambini, tante progettualità su questo settore però è innegabile, il rugby si gioca per vincere, le ambizioni sono quelle che animano gli sportivi e chissà, magari un domani troveremo spazio nella massima categoria, un passo alla volta, un passo alla volta. Una curiosità, il nome Centurioni da dove deriva? Centurioni, cercavamo un nome che rappresentasse la Valtrompia, la Valtrompia è terra di Romani e chi più dei centurioni, chi è più del centurione che guida la centuria può rappresentare in così bel modo la Valtrompia e da qui il nome, il centurione guida la centuria, il capitano guida 15 giocatori in campo e di conseguenza è nato questo nome, questa icona della Valtrompia. Valtrompia perché il rugby centurioni non è il rugby lumezzane, è l'evoluzione ed è il rugby per tutta la Valtrompia appunto. Un 4.0 come hai avuto modo di dire in presentazione? Sì, un 4.0, ormai mi prendono in giro tutti, sì, il rugby centurioni sono l'evoluzione 4.0 del rugby lumezzane. Esatto. Allora, centurioni rugby significa maschi, significa femmine anche, vogliamo fare un quadro un po' di tutta l'attività? Allora, centurioni rugby significa attività a 360 gradi. Partiamo dai bambini di 3 anni, da quest'anno con i baby centurioni per poi coprire tutte le categorie della Federazione Italiana Rugby, quindi dall'Under 5 all'Under 19 per il settore, diciamo, juniores. Poi abbiamo la prima squadra in Serie A, abbiamo la seconda squadra in Serie C e da quest'anno abbiamo anche le Lilium. Lilium è un progetto che ha un grande respiro, tre anni fa è partito e oggi vanta già 20 ragazze qui all'attivo nelle varie età. È un progetto sul quale crediamo molto e è un progetto nel quale, insomma, stiamo investendo tecnici, qualità e, insomma, un po' di tempo per dedicare questo spazio al settore femminile molto importante. C'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie C, anche una squadra old? Anche una squadra old, sì. Da quest'anno abbiamo anche terminato l'ultimo, diciamo, upgrade della società e da quest'anno abbiamo una squadra old che raggruppa tutti gli over 35 e 35 e oltre anche e che si allenano il giovedì sera, fanno un toccato, un touch, si chiama così nel gergo tecnico però siamo anche lì 25-30 ragazzi, ragazzi, mi piace definirli così, siamo ragazzi e ci stiamo divertendo. Abbiamo iniziato scherzando però c'è già un bel gruppo, un bel gruppo che servirà poi anche a dare un po' di respiro al volontariato sul club. Avete annunciato proprio questa mattina il nuovo sponsor, Promotica, si chiamerà quindi Promotica Centurioni Rugby. Sì, Promotica Centurioni Rugby è l'azienda del presidente e amministratore delegato Diego Toscani. Già l'anno scorso era entrato nell'entourage delle società, o meglio, già da qualche anno era sponsor. Poi l'anno scorso aveva già siglato questa partnership e ovviamente non abbiamo potuto fare niente ma lui è stato presente dal punto di vista sponsor, quindi lo ringrazio a nome di tutto il club. Da quest'anno ufficialmente abbiamo presentato anche la maglia Promotica Centurioni Rugby. Da oggi siamo Promotica Centurioni Rugby. Ivano Bonacina è la coach della formazione di Serie A dei Centurioni Rugby. Serie A che parte proprio domenica 17 ottobre, si inaugura subito il campo con la partita contro Genova. Esatto, era una partita programmata a Genova, poi per problemi di omologazione del campo ci hanno chiesto l'inversione di campo, per cui abbiamo accettato, perché c'è un ottimo rapporto, per cui giocheremo la prima giornata 17 qui, anche la domenica successiva saremo qui col Custorino, per cui siamo a casa nostra. Un allenatore di grande esperienza per una squadra sostanzialmente giovane, così? Sì, esperienza sì perché alleno dal 91, per cui qualche anno che sono in giro. La squadra è molto giovane, molto stimolante per me anche confrontarmi con queste nuove generazioni. è importante l'entusiasmo che loro hanno moltissima energia, che va pilotata, va guidata, indirizzata. Però i ragazzi hanno tutti molta voglia. La cosa che mi fa molto piacere che sta lievitando in questo periodo è la magma tra di loro, il piacere di sentirsi squadra tra di loro anche fuori dal campo e questo sicuramente è un valore aggiunto per quello che poi faremo in campo. L'obiettivo quale sarà? Ma prima, durante le presentazioni, si sono parlati di numeri, ovviamente di fare un campionato da protagonisti, non di salire questo Nober, che non siamo ancora maturati abbastanza, però rinforzare e fare, prima l'ho detto nell'intervista, un progetto dal medio-lungo termine, 3-4 anni, per poi fare un salto di qualità. Però per poter arrivare lì bisogna già partire bene, per cui spero da metà alta classifica. Marco Ghidini è il responsabile del settore giovanile dei Centurioni Rugby. Ecco, come si svolge l'attività? Dove si svolge in modo particolare? Crediamo qui al centro di Villa Carcina. E soprattutto quanti atleti, quanti bimbi partecipano a questa attività? Allora sì, l'attività del settore junior, del settore mini rugby, si svolge prettamente su questo impianto, che è meraviglioso, e insieme a questo impianto utilizziamo anche la struttura, la tensostruttura, che ci è permesso di utilizzare dal comune il sabato mattina, e ci permette quindi di coprire tutte le fasce di età, a partire dai bambini del 2019, quindi che hanno due anni. Questo è incredibile, no? Come fate? Ci spieghi un po' come fate a radunare questi bambini così piccoli? Il progetto è Mini Centurioni, da quest'anno la federazione ha allargato, ha aumentato le fasce di età, ha preso l'Under 5, e quindi abbiamo affiancato a questi ragazzini, questi bambini, delle figure formate dal punto di vista proprio della scienza della formazione, anche della scienza delle attività motorie, e quindi facciamo fare proprio esercizi propedeutici, dei giochi per far divertire propedeutici al rugby. Poi saliamo e arriviamo al Mini Rugby, con le categorie Under 7, Under 9, Under 11, Under 13, e abbiamo circa un centinaio di bambini che arrivano al campo regolarmente, venite il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19 e 30. Anzi, noi vogliamo che loro vengano a provare, e quindi ci tengo a dire venite il mercoledì e il venerdì a quell'ora, presentatevi al campo con i vostri bambini, facciamo le due settimane di prova, se vi piace poi dopo tesseriamo e andiamo avanti con l'avventura dei centurioni. Da qui in poi arriva il rugby più strutturato, che è quello dell'Under 15, dell'Under 17 e dell'Under 19. L'anno di pandemia ci ha segnato, ci ha fatto fare molta fatica, però la scelta della società è stata quella di tenere anche l'anno scorso sempre aperta la struttura e dando a disposizione, seguendo sempre i protocolli, dando a disposizione i tecnici e quant'altro, per far venire i ragazzi al campo, anche se non si poteva fare contatto. La scelta ha pagato, siamo una delle poche società che, anche se nella difficoltà dei numeri, ha mantenuto quelli che c'erano l'anno passato e abbiamo anche incrementato. E questo è un grosso risultato rispetto al panorama della provincia di Brescia e non solo, perché c'è molta difficoltà da questo punto di vista. Noi possiamo dire che li abbiamo mantenuti, li stiamo incrementando e come diceva il general manager Raza prima, durante l'inaugurazione, diceva che abbiamo cominciato a fare delle partnership con le società bresciane. Ed è vero, la nostra Under 17 è tuttorata insieme alla Franciacorta. Abbiamo creato, abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di poter fare un livello di rugby mantenuto alto e faranno il girone di promozione. Perciò abbiamo cercato di dare ai nostri ragazzi la possibilità di ritornare a fare rugby di un certo livello. E su questo siamo orgogliosi per due cose. Primo perché gli abbiamo dato questa possibilità e secondo perché abbiamo cominciato davvero a collaborare con le società bresciane. E infine l'Under 19 che domani giocherà a Botticino, la prima di campionato anche lei. Lì siamo con i numeri un pochettino più tirati e poi riusciamo a fare un bel campionato. Da qui si parte, abbiamo uno staff tecnico completo. E per completo dico non solo dal punto di vista del rugby insegnato sul campo, ma anche dal punto di vista della preparazione atletica. Ogni categoria ha il proprio staff di allenatori e preparatori. E poi tengo molto a precisare, la società sta investendo molto anche sul rapporto e sulla capacità di poter insegnare di rapportarsi con le nuove generazioni attraverso la figura dello psicologo che ci aiuta a noi come tecnici a sapere come rapportarci con i ragazzi perché loro sono il futuro. Noi alla nostra età continuiamo sempre a dire se qualcosa non va è, sapete, le nuove generazioni, la verità è che le nuove generazioni sono avanti e le nuove generazioni noi dobbiamo saperle intercettare, dobbiamo sapere come comunicare con loro ed è importante questa figura che ci aiuta a imparare, a essere delle guida per questi ragazzi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!